Che cosa significa per voi imprenditori per tutte le attività economiche lo spostamento del coprifuoco? Ma assolutamente è una misura fondamentale perché altrimenti avrebbe creato non poche difficoltà tutte le attività commerciali perché non avrebbero potuto fare tra l'altro le aperture serali perché comunque alle 10 il coprifuoco è assolutamente assurdo perché comunque poi la gente sarebbe dovuta andare a casa ma soprattutto essendo la nostra una città turistica avrebbe creato evidenti problemi anche a livello turistico, turistico perché comunque le persone, appunto i turisti sarebbero venuti in una città che poi alle 10 doveva chiudere tutto e anche per quanto riguarda tutti gli eventi perché ricordiamoci che ci saranno anche eventi sempre nel rispetto delle regole e delle misure sanitarie ma alle 10 purtroppo come ad esempio Passaggi Festival non si sarebbe potuto tenere nella maniera in cui si è sempre tenuto quindi per noi è importantissimo per far girare comunque la gente per dare un respiro proprio economico a tutte le attività che possono essere appunto commerciali di negozi ma le attività di ristorazione, i bar e quant'altro quindi abbiamo bisogno di ricominciare, di ripartire un po' alla volta ma speriamo che venga proprio tolto del tutto perché abbiamo veramente bisogno di respirare